La collezione Primavera 2024 di H&M Home per la cameretta dei bambini propone accessori e giocattoli ispirati alla città da acquistare online o in negozi selezionati. I tre articoli imperdibili della collezione sono il contenitore per libri a casetta, il tappetino da gioco con motivo e il poster con stampa Parigi. Il contenitore per libri a casetta realizzato in metallo ha un design accattivante e può ospitare i libri dei bambini con un prezzo di 24 virino 99 euro. Il tappetino da gioco con motivo è proposto come una pista per i giocattoli dei bambini con dimensioni di 130% cdc in bismi in tela di cotone antiscivolo costando 29,90 euro. Il poster con stampa di Parigi adatto a qualsiasi cameretta dispone di bacchette in rovere per la posa ed ha dimensioni di 54 per 90 cdc ad un costo di 9,90 euro.